Ciao, ho preso l'album cigarette dei Top Dog, questo è davanti, questo è retro, metti a fuoco su, dai, bravo, no come non vuoi, fuoco, 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 va bene, come non ho detto questo è il chili, questo è il fatbook piguun sandu, kidu e come lui non possono rifargli questi capelli invece che i capelli che c'è adesso perché stava meglio prima so dun genissima go yano miju hojun han sol uccendi erics ciao grazie a tutti grazie a tutti